Un saluto dal Tg della Mobilità, giovedì 16 dicembre, trasporto pubblico romano a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto dai sindacati CGL e Will. Nella capitale l'agitazione interesserà i bus, incluse le linee periferiche gestite dalla Roma TPL, tram, metropolitane e ferrovie in concessione. Il servizio sarà comunque regolare sino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. In ferrovie l'agitazione si svolgerà dalla mezzanotte alle 21. E la linea 2 tornerà a viaggiare su tram da sabato 18 dicembre. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi lo ha confermato il Campidoglio, novità intanto anche sulla Metro B. La stazione Policlinico verrà riaperta al servizio viaggiatori entro Natale. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.